In questo video scoprirai come gestire il tuo sito web. Come sicuramente saprai, la gestione di un sito web comprende diverse attività che ti linkerò in questo video. Verifica ed in caso esegui il backup del tuo sito web. Io per i miei siti web utilizzo l'host InsideRound, che esegue backup automatici giornalieri, quindi è una cosa in meno che devo fare per gestire il mio sito. Se il tuo host non dispone di questo servizio, puoi scaricare il plugin AppDraft. Il secondo consiglio è di aggiornare WordPress all'ultima versione. Installa il plugin All-in-One WP Security, che ti aiuta a rendere il tuo sito web più sicuro e a prevenire problemi di sicurezza sul tuo sito. Il quarto consiglio è di mantenere aggiornati i temi e i vari plugin del tuo sito web. Il quinto consiglio è di gestire correttamente i commenti. Mi raccomando, fai attenzione ai commenti spam ed eliminali. Il sesto consiglio è quello di monitorare il consumo del tuo sito web, in modo da prevenire problemi col tuo hosting. Grazie a InsideRound riesco a monitorare tutto in modo semplice. Il settimo consiglio è di aggiungere nuovi articoli. È fondamentale pubblicare costantemente nuovi articoli di qualità. Mi raccomando, aggiorna sempre gli articoli più vecchi, in modo da offrire agli utenti un'esperienza sempre migliore. Inoltre, se aggiorna un articolo, molto probabilmente riuscirai a posizionarti meglio per quella che io, essendo che Google lo considera come un fattore SEO, quindi incide sul posizionamento del tuo sito web. Non c'è bisogno di rifare l'articolo a capo, basta aggiungere almeno 200 parole o una nuova immagine. Il nono consiglio è quello di installare il plugin InsideRound Optimizer. Se non vuoi installare questo plugin, puoi utilizzare il plugin TotalCache in alternativa, che ti aiutano a rendere il tuo sito web più veloce grazie alla cache e a varie ottimizzazioni. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video dove abbiamo scoperto insieme come gestire un sito web. Mi raccomando, se ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti. Grazie a tutti!